Ciao Fabio, ho sentito parlare di te e ho sentito parlare del tuo desiderio, quindi sono in nazionale, non riuscirò purtroppo a passare di persona, ma ci tenevo tanto a fare questo video per mandarti un grande saluto, quindi eccomi qua, ti mando un saluto grande, un abbraccio e un bacio, ciao!